pubblicità poi trovo qui da Manchester Manchester United Milan è stato presentato da Ford, sponsor UEFA Champions League sono Andoramones e mi sento solo Pulse, Pugliana, where are you my friends? Trovaci Sotto il tappeto? Fuochino Nel vasso di fiori? Acqua Ma dove siete? Ho guardato dappertutto Ma sei scemo? Ma Pulse, where is? Voilà Noi Windpack, parli gratis con tutti i numeri Wind Everybody, baby! Da Wind Che sapore ha la primavera? Sagi acqua pura, che nasce dalle Alpi Venete e dopo un lungo cammino raggiunge incontaminata un bacino sotterraneo Naturalmente protetto Acqua oligominerale San Benedetto, vita da bere Sei proprio la nostra acqua Aprile Ford, il mese migliore per scegliere la sua piesta plus 1200 Durafec 16 valvole Clima e radio CD Tua subito 8.950 euro Solo ad aprile Scogli l'attimo Forse abbiamo esagerato con il realismo dei nostri colori Color like no other Sony Bravia Volevo la luna Mi ho dato un fondamento di mascarpone e pan di spagna Il sentore del caffè E l'ho vestita con un velo di cacao Così è nato un gelato talmente desiderabile che l'ho chiamato tentazione Il cielo è pieno di desideri E di tentazione Antica gelateria del corso L'alta gelateria Entra nella Touch Generation di Nintendo DS Per divertirti Rilassarti E mantenere in forma il tuo cervello Gioca come non hai mai fatto prima Solo su Nintendo DS No Ma lei Lei lavora all'Unicredit Banca Scusi Sì È vero che Genius Ricaricabile è il conto che ha zero il costo Sì e può fare operazioni non solo su internet ma anche in banca Si ricarica automaticamente Per esempio con lo stipendio sul conto Allora posso contarci Può contarci Mi schiaccia lo zero per cortesia Genius Ricaricabile Si ricarica ogni mese e euro dopo euro A zero è il suo costo Unicredit Banca Posso contarci Nardi elettrodomestici Metal Design Dove va la nave del Partito Democratico? È offrite portato a sedere Francesco Rutelli Vicepresidente del Consiglio e Presidente della Margherita Dopo il congresso del suo partito Dopo quello dei Democratici Sinistra Stasera Rutelli ha tutto campo sulle prospettive di questo nuovo partito Sulle possibili alleanze E naturalmente anche per arrivare ai fatti concreti La politica più immediata Le proposte sul fisco, sulle pensioni E su quant'altro Sulla casa Tutta sulla casa Sulla casa Sulla casa Voglio vedere se ce la farà lì Le portano avanti le sue cose Sulla casa Porta a porta di terra Grazie